Eeeh, ciao ragazzi e benvenuti qui sono i nuovi, sono Obidu e oggi siamo su Rainbow Six Siege Oggi siamo nel primissimo episodio su minigiochi, oggi faremo la Fuse Challenge Ecco, siamo anche in compagnia di Lotto e Crysis e Gabbiero e Blaster X-Blaids Salutate, perfetto Ciao Ok, in cosa consiste questa Fuse Challenge? Come si gioca? Cos'è questa Fuse Challenge? Ah, perché come dite, ce n'è uno in attaccante, deve prendere Fuse Ok, e gli altri devono stare in una stanza, devono scegliere una stanza e devono stare lì Devono barricare, però non devono rinforzare, barricano Ed ero, devono sopravvivere E io una volta, e io ho arrivato lì, cioè da loro, devo fuggiare e devo cercare di ucciderli E loro devono cercare il più possibile di sopravvivere Se io finisco tutti i tre Fuse e uno di loro sopravvive, loro mi devono uccidere Avete capito adesso? Ok, perfetto Mi sembra chiaro Iscrivetevi al mio canale, spoiler Spoiler di merda, vabbè A pari iscrivetevi al suo canale, perfetto Mettere tutto in descrizione, tranquillo My canale Basta che mi dà i tuoi amici Va bene, mi sembra tutto chiaro, possiamo far partire il gioco Ok, iniziamo già subito dal bar Facciamo come prima, facciamo come prima, spacca questa, spacca questa No, no, non spaccare, non spaccare, non spaccare la botola, non spaccare L'unico lato positivo della botola è che praticamente rifiutata là e tutte le cariche finiscono dentro E si esplodono in garage Ma io, io mi so che morirò qua, per ora lo posso riforzare, che peccato Quindi, devo cercare il mio dato posto Perché qua potrebbe fizzare, quindi non è molto sicuro Ecco qua, perfetto E qui dietro, e qui dietro, e qui dietro Eccolo da qua, da qua No, sono morto, no Mi è arrivato sotto, ma io stavo lontanissimo Madonna, Lotto Ok Primo round lo abbiamo perso Si è fatto frittino Ma qua, qua no Sì, dai, qua ci sono le barricche Qua è da Slim Ford a sto muro Lotto sopra Siamo in biblioteca In biblioteca Chiudi qui Guardate che ciccio ne rada Guardate che mi sono messato l'altra volta Mi sono messo a studiamo Ah, carino Però ci vuole un po' di protezione seria Ma quando mi vieno? Fatelo pure, fatelo pure mi vieno Ti ricordo, ti ricordo che se uno di noi sopravvive Dobbiamo uccidarti Io so il scudo, quando entra Dove cazzo mi metto? Ops, sta fiusando, via, via, via Entro lo scudo No, l'ho messo a riferimento Ora muoio, ecco, sono morto Oh Voglio vedere come sono morto dalla Ghircamo Devo, ok, no Credo che mostrerà a me Eh, io che per sto faccio, non puoi ridere Sono un po' io un coglione che in quel modo Sì, veramente Qua, 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 qua In cucina pure andrebbe bene No, non è grande Sì, in cucina sì, perché è fiuso dalle pareti Perfetto, cucina, cucina Cucina, cucina Io mi metto qua Ok, siamo in cucina Io cerco di... Ok, perfetto Sto qua, io Ups Non ho lo scudo ancora che... Uno di uno Sì, grazie Sì, grazie Uno di uno Uno di uno No, siamo morti Non riesco a scavalcare Bravo Ah, era morto o la... Sto vincendo Fuse No, non è Bravo Bravo Ecco, ho vinto Ah, se vi facciavolo Cambiamo mappo Ok, ragazzi Ora sono io Fuse Spacco il culo Maglitti Ok Dai, via Direi di partire immediatamente A giocare in questa mappa Dove faremo un po' di prelieri Ma poi Ah, banca Banca Ma ci sono posti qua E preleviamo tutti insieme Ok, è di nuovo Già al primo posto Lo so Vi porto io Però non potete scegliere Troppo grandi Ma andiamo inattivi Cioè, fiuso da tutte le parti Trovate un modo per un fallo che zio Zio Venite qua qui Ma ancora no No, entra in stanza Forbacchione Eh, cosa stai facendo? Stai facendo una spia? Stai facendo una spia? Perfetto Perfetto E chi sei? L'uomo nero L'uomo nero L'uomo è abbastanza nero Io sono pronto Pure io Lo vedo Lo vedo, lo vedo Dalla bussola Ha rotto la camera Dell'altro Dell'altro Cassaforte Dai Era la barricata Io ero disteso Sul computer Oh perso Ma le ho finito Non mi troverete mai Mi sei passato accanto, guarda Già, ti ammorto Come ho fatto a non tigliarlo? Ma non lo so Vedi che ci ho passato davanti Io muoio sempre E a prescindere E alla tua giaccia E alla tua giaccia stanno tutti i cavolini Se Fuse ti puoi tutti Se Fuse bene Ah qua In questa stanzetta È vero Questa stanzetta qua Dove state allora? Accanto all'open space Cosa qua? Ah siamo qua Siamo qua Ah eccolo Ah ma vuole stare qua Eh no non può Perché sta prendendo l'obiettivo Vabbè fa lo stesso Io la piazzo o la barricata? Ma rigastolo Vieni qua C'è lui vieni qua Vieni qua Vieni qua No vieni qua Aspetta prima di pensare La Meglio di così La 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 Cosa lì vieni Non sono morto? Sono morto io che ti stavo dietro Io sono morto che stavo dietro a Piero Però è una stanza abbastanza grande Non vale C'è Tu non potevi capire Come ero messo Bland Io ce l'ho 4 di vita Bland Io sono morto che stavo dietro a Piero Bland Ma come forse? Ma la Bland Tu stai glitch Ha detto guarda Da oggi Ti morirà Bland Ha perso Ha buttato a caso Ma è di tocca da capo Piero Eh no è da staccare Sai che lo dopo stacchiamo Bastardi sti qua infami Hanno scelto un posto grande a camperare Non vale però Io mi sono messo sopra una credenza con lo scudo Con lo scudo Sì Io stavo dietro Piero Siamo morto Ma che cosa? Vabbè ragazzi se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale E noi ci vediamo al prossimo video Alla prossima